Te le due ruti, Vincenzo Vassile, voglio mostrarti nella tua somma eleganza. Vincenzo, noi ci siamo conosciuti, ci conosciamo, ci siamo conosciuti, diciamo sotto le bandiere del Partito Comunista Italiano e dell'ora e dell'unità. Ma io vorrei che tu mi parlassi di un tuo amore esplicito che è la Roma, nel senso di società calcistica. E sulla questione Francesco Totti, vorrei una tua considerazione. Io voglio sfruttare questa occasione per dire che Francesco Totti non si tocca. Leggo su Facebook e altrove delle esternazioni improvvide anche di romanisti pentiti, amici miei intendiamoci, che gettano schizzi di fango sulla figura che deve rimanere intangibile, che deve... di Francesco Totti, del capitano. Il capitano non si tocca. Lasciate che sia lui a decidere quando e se se ne va e basta. Dico basta. Però è una posizione affatto dialettica, è una posizione di chiusura. Il tifo non è dialettico, è come l'amore, anzi come gli innamoramenti. Non si mette in discussione nulla. O si ama o nient'altro. Ma e quindi quale dovrebbe essere l'esito? L'esito deve deciderlo Francesco Totti, che ha dimostrato in tanti anni di carriera di avere, di saper trovare la lucidità per scelte che sono state sempre o quasi sempre giuste. Fatelo decidere a lui. Vincenzo Vasile, Tele Torruti. Grazie.